Dialogo aperto tra l'amministrazione comunale catenota e le associazioni di categoria di commercianti, artigiani e sindacati per discutere del PUC, piano urbanistico comunale prima di essere votato in consiglio, forse venerdì prossimo, oggi tavolo nella sede provvisoria del palazzo di città, 10 catena. Riteniamo che sia un atto di assoluta trasparenza, di collaborazione con la città, con i cittadini, in questo caso con le associazioni di categoria, stiamo rivedendo che praticamente un adeguamento al vecchio PUC, al PUC che è già esistente, più formale che sostanziale, ma in ogni caso abbiamo ritenuto, vista la segnalazione, vista la richiesta anche di qualche consigliere, abbiamo ritenuto normale poterci confrontare anche con le associazioni di categoria, con i sindacati prima di arrivare a una votazione in consiglio. Benvengono se ci sono dei suggerimenti migliorativi. Poi abbiamo collaborato alla stesura del piano attuale che si deve discutere stamattina e quindi siamo già a conoscenza del buona parte e lo riteniamo un ottimo piano. La riunione di oggi è semplicemente un atto dovuto, in quanto prima che venga approvato e votato e discusso in consiglio comunale è giusto che la commissione che rappresenta appunto le categorie imprenditoriali ne venga a conoscenza e ne discuta. Quindi questa è semplicemente una discussione interlocutoria per conoscenza di quello che è nella spazio di spese. Per quanto ci riguarda con il commercio siamo pienamente d'accordo, tranne in qualche piccola cosa, ma niente di che, perché il piano è un buon piano che sicuramente sarà tagliato per la misura di la cittadina. Siamo principalmente interessati allo sviluppo del territorio, alla tutela dell'occupazione e speriamo alla possibilità di creare nuova occupazione appunto nel territorio che insiste tra Cicatena, San Filippo e San Nicolò. E chiaramente su questo è il dibattito che noi vogliamo fare al di là del confronto che il sindaco vorrà tenere con le parti sociali rispetto a questo cambiamento dell'area urbana, dei centri commerciali nella comune di Cicatena. E principalmente ci interessa che non venga messa in discussione gli attuali esercizi commerciali.